Bene, buongiorno e benvenuti. Certo, la giornata è piuttosto impegnativa oggi, fra sciopero dei taxi e attesa sugli esiti per il Governo non ci facciamo mancare nulla. Aprirei questa introduzione con una domanda. Ma la crisi climatica è un'effettiva priorità in Italia? È considerata una priorità. Vediamo tutti che ci servono urgenti misure di adattamento per renderci meno esposti e meno vulnerabili ed anche che sarebbe possibile affrontare in maniera congiunta l'accelerazione delle misure per la crisi climatica, l'autonomia energetica, abbiamo bisogno di ridurre la dipendenza dai fossili di importazione dalla Russia e anche i costi dell'energia. Questi tre grandi temi di questa fase potrebbero essere affrontati in maniera congiunta, anche perché l'Italia è molto esposta alla crisi climatica. Vediamo tutti che stiamo subendo danni molto ingenti e stiamo pagando. Non è che questi sono danni caduti dal cielo, cadono anche dal cielo ma ci sono delle cause. Abbiamo accumulato ritardi a livello globale e registriamo lo scarso impegno che ha contribuito, che ha fatto aumentare le emissioni di gas serra. Per questo c'è l'intervamento. Noi una cosa non dovremmo e non potremmo essere, essere fra i paesi che frenano, visto i costi alti che paghiamo, e dovremmo essere invece fra i paesi che guidano il cambiamento per la neutralità climatica. E in questo senso, per essere fra i paesi che guidano la transizione verso la neutralità carbonica, è urgente anche in Italia una legge per il clima. È un po' di tempo che lo stiamo ripetendo, non da soli, ma dovremmo riflettere sul perché questa legge c'è in Germania, in Francia, nel Reunio Unito, anche a livello europeo il regolamento è una legge per il clima europeo. Manca in Italia un quadro aggiornato. Dobbiamo aggiornare il PNIEC, ma per aggiornare il PNIEC ti serve un quadro, meglio se normativo, pluriennale, al 2030, 2040 e oltre, perché il cambiamento è di quelli importanti, che aggiorni i target, aggiorni gli strumenti, acceleri quindi la transizione energetica e introduca anche misure di adattamento. Qui si parla dell'ondata di calore, la siccità e si usa ancora il termine emergenza. Per la gravità è un'emergenza, ma è una condizione destinata che dura da un po', infatti è qualche decennio che si parla di necessità di introdurre misure di adattamento. Nei criteri di aggiornamento del PNIEC la Commissione europea dice mettete misure di adattamento per affrontare la carenza di acqua e i lunghi periodi di siccità, e quindi le perdite della rete e gli accumuli, per ridurre l'esposizione alle ondate di calore, per rafforzare la prevenzione e gli spegnimenti degli incendi, per ridurre i rischi nelle aree a rischio di sesto idrogeologico, le vulnerabilità rispetto ad alcuni eventi come le bombe d'acqua, adeguare le tecniche di coltivazione agricola e anche per le zone costiere esposte all'inalzamento. È un elenco non completo, però dobbiamo avere ormai la convinzione della necessità di misure sistematiche di adattamento, sistematiche e ben finanziate. Avevo introdotto dicendo che dovremmo affrontare insieme l'accelerazione delle misure per il clima, la riduzione dei costi di energia e la maggiore autonomia energetica. C'è invece questo discorso sul ritorno al nucleare. Non credo che sia il caso di appena discussione di opinione ideologica se siamo ideologici, no. Poniamo due problemi concreti. I tempi, noi abbiamo la necessità di una svolta urgente, entro il prossimo decennio oppure i giochi diventano già fatti. I tempi, noi dopo 12 anni in Italia non abbiamo ancora localizzato, cioè decidere dove mettere un deposito di rifiuti radioattivi. Si parla molto di questi small modular reactor, nuovi reattori nucleari di 300 megawatt, saranno disponibili forse entro il 2030, probabilmente al 2035. Per fare il 25% dei 600 terawattora ipotizzati al 2050, che si faranno per il dopo, servirebbero 60 reattori nucleari di tipo small. Immaginate se c'è un senso di realismo, di praticità in una proposta che ipotizza questo tipo di percorso in Italia, per i tempi. Si discute anche... gli ultimi due reattori di costruzione in Francia e in Finlandia hanno superato i 15 anni, Flemenville e Occhiluoto. Figuratevi se dovessimo riprendere in Italia che tempi dovremmo avere. Quindi chiediamo una razionale discussione sui tempi, non una discussione ideologica sì o no. Due c'è il tema dei costi. Noi stiamo cercando di contrastare l'elevato costo dell'energia e dell'elettricità generata con fonti fossili, soprattutto con questo picco del gas. Beh, i costi del nucleare sono studiati, valutati, misurati, comparati dalle fonti internazionali. Non ho tempo per dilungarmi, vi cito alcune fonti. Dico solo che l'unica fonte, non a caso è fatta in collaborazione con l'Agenzia per l'energia nucleare, che mette i costi di generazione del nucleare vicini, un po' superiore all'eolico e al fotovoltaico, abbassando rispetto agli altri studi i costi del nucleare e alzando quelli delle rinnovabili. Ma le altre fonti non è che sono fonti ambientaliste, sono l'Agenzia Internazionale Energia e l'Agenzia Internazionale Airina per le fonti rinnovabili, cioè agenzie internazionali prestigiose, che invece danno un netto vantaggio di costi alle fonti rinnovabili segnatamente eolico e fotovoltaico rispetto al nucleare, all'energia elettrica generata con centrali nucleari. Ma sono questi grafici sui quali vi invito a riflettere un attimo, più che i costi attuali, sono i costi futuri che divergono in maniera molto svantaggiosa per le fonti nucleari e questi grafici sono sempre dell'Agenzia Internazionale, per l'Energia, sono la pubblicazione più recente del 2021 e indicano un trend che porta l'eolico a livelli bassi, a circa un terzo del costo del nucleare, e il fotovoltaico lo porta a 25 dollari al gigovattore rispetto ai 125, al 2050, nello scenario net zero emissions, rispetto ai 125 del nucleare. Cioè, negli scenari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, nello scenario net zero emissions, il nucleare generato e costi di generazione livellati, c'è comparati, cinque volte superiori. Quindi queste non credo che possano essere solo delle opinioni. Abbiamo un pacchetto di misure europee, spero, immagino che poi Simona Bonofeccia ne parlerà con più dettaglio, però che dei passi avanti li propongono. Sia Fit for 55, sia Repower EU, che sono orientati esattamente nella direzione che anche oggi noi cerchiamo di sostenere. Cioè, questa integrazione di misure per la transizione climatica, quella energetica, i vantaggi dell'autonomia e dell'affrontare i costi e la sostenibilità economica e sociale di questa transizione. Anche in Italia serve una rotma per l'energia e il clima, che sia avanzata, perché siamo un paese che dovrebbe collocarsi tra i paesi europei avanzati, e aggiornata alle nuove proposte europee. Riassumo i cinque punti essenziali della proposta di Italy for Climate. Poi Andrea Barbabella nella relazione svilupperà, diciamo, alcune articolazioni di tre proposte, chiamiamole operative prioritarie. Il quadro dei cinque punti essenziali è questo. Bisogna aumentare seriamente le misure per il risparmio e l'efficienza. La prima misura, l'energia costa cara, sprechiamone di meno, è banale, ma va fatto. E potremmo fare ancora molto, come poi vedremo nei consumi civili, nei trasporti, nell'industria, per puntare a risparmiare il 20% dell'energia, circa 90 megatep, entro il 2030. E qui Repower EU. Aumentare l'energia rinnovabile complessiva dal 20% attuale al 45%. Aumentare la quota di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, e questa è la proposta di elettricità futura recentemente esposta, con la quale ci allineiamo perfettamente, dal 41% all'84% entro il 2030. I benefici economici e occupazionali dell'84% di elettricità rinnovabili al 2030. Questa è una tabella presentata all'Assemblea di elettricità futura del 21 giugno, quindi recente. La fonte citata sulla tabella è la fondazione Enel. Lo scenario Repower EU viene chiamato, cioè 85 gigawatt per produrre l'84% di elettricità al 2030, produrrebbe investimenti dal 2022 al 2030 309 miliardi, le ricadute economiche 345, 38,3 miliardi di euro annumedi, 2,2% del PIL, scusate se è poco, e posti di lavoro aggiuntivo 470 mila. Sarebbe bene ricordarseli questi numeri. Azzerare l'uso energetico del carbone, se si usa per qualche mese non è un dramma, però la scadenza della chiusura del carbone deve restare fissa. Tagliare al 20-30 il 41% dei consumi petroliferi e del 45% quelli del gas. Questi effetti vengono prodotti dalle misure dette prima. Così noi ridurremmo le emissioni di gas serra del 60%, cioè ci mettiamo in linea con la Germania. Non è che diciamo, oddio, il 55% è troppo, no. Paesi avanzati migliorano i target medi europei, che è proposto al 55%. Concludo con richiamo delle fake news che veniva, e questo è un noto protagonista delle fake news in materia climatica, le citazioni abbondano, però ricordo che noi abbiamo avuto per decenni le tesi negazioniste sul riscaldamento globale non era causato dalle cause antropiche, nonostante i rapporti dell'IPCC, che è il panel intergovernativo internazionale, non è, e l'unanimità delle istituzioni scientifiche. Questi fake news negazioniste hanno seminato confusione, ostacolato le politiche climatiche, contribuito a ritardare gli interventi e così ad aumentare i danni che stiamo subendo. Ma adesso, anche nonostante gli impatti della crisi climatica, le responsabilità dei ritardi, in Italia c'è ancora chi invoca il carattere globale della crisi climatica per motivare uno scarso impegno nazionale e per ostacolare l'idea che l'Italia, in contempo debba e possa, insieme agli altri paesi più avanzati, svolgere un ruolo di traino dell'impegno globale per la transizione alla neutralità climatica. E c'è chi difende, non perché adesso c'è bisogno di qualche aggiustamento di emergenza, ma il modello energetico ormai obsoleto e dannoso e sottovaluta i benefici della transizione climatica, sottovaluta i benefici, ho dato alcuni numeri, si tratta anche sul nucleare, lo volevo sottolineare, non è un'opinione ideologica in discussione, quella la lasciamola pure al dibattito accademico. I problemi sono due, i tempi, la necessità rapida della svolta e anche i costi di questa transizione energetica. Facciamo una discussione molto pragmatica, basata sulle fonti accreditate, su queste due questioni che sono dirimenti. Il problema vero è, mi collego a quello che diceva Raimondo all'inizio, che nonostante le evidenze della crescita mondiale, dei rapidi progressi tecnologici, del forte calo dei costi, continua in Italia la sottovalutazione dei potenziali della forte crescita delle rinnovabili. È come una specie di inerzia negativa, cioè non si riesce a credere che si possa soddisfare il 100% dell'energia elettrica, anche di più di quei consumi attuali, solo con fonti rinnovabili. Che questo comporta vantaggi economici oltre che ambientali. E poi c'è l'esagerazione degli impatti ambientali e paesistici. Sembra che non siamo capaci di interiorizzare il fatto che il paesaggio è un fattore dinamico. Se comparassimo l'impatto delle strade a quello degli impianti delle rinnovabili, dobbiamo chiudere tutte le strade, perché il reticolo stradale, però fa parte, certo se ne potrebbe fare di meno per amor del cielo, però fa parte del paesaggio diciamo economico-sociale della nostra epoca. Un modello energetico ha una sua evoluzione del paesaggio, rispettando i paesaggi di pregio e quelli di un certo valore, ma che ci sia questa levata di scudi, soprattutto di quelli che dell'ambiente non si sono mai interessati e hanno sempre dimostrato di avere una grandissima incompetenza in materia. Oddio, se facciamo la rivoluzione delle rinnovabili, chissà con quanti pannelli solari dobbiamo mettere, chissà dove li mettiamo e chissà come facciamo. Fra l'altro, siccome dire che poco sole in Italia non si può dire, risulta anche che non abbiamo il vento in Italia. È una bella scoperta. Quindi attenzione con le fake news. Le rinnovabili fanno già il 41% della produzione di elettricità, le imprese del settore hanno già progetti e proposte autofinanziate, basta che non si mettano i bastoni fra le ruote e la si smetta con tutte queste fake news, per arrivare entro il 2030 all'84% dell'elettricità prodotta con fonti rinnovabili. Ovviamente risolvendo con investimenti e interventi i problemi della discontinuità e degli accumuli e anche delle reti, ma i programmi ci sono. Quando tu hai l'80% e fai 10 gigawatt di installazione e la capacità annua e hai la capacità industriale, il problema sarà cosa fare delle centrali a gas residue, non quelle di inventarti small reactor o qualche altro reattore che a quel punto mi dite a cosa serve, ormai ho avviato e lo devo fare altrimenti perdo il treno, l'84% di elettricità prodotta con fonti rinnovabili, almeno 10% nel progetto arriva a 12 gigawatt di produzione di impianti, di installazione di impianti annua con l'industria, la capacità di accumulo, a quel punto vado avanti e arrivo al 100% e anche alla crescita della successiva elettricità. Sono punti sui quali ho cercato di insister perché penso che per portare al centro della nostra priorità la crisi climatica dobbiamo portare al centro le soluzioni che abbiamo a disposizione. Grazie.